Assessore Bignotti, il grande quesito che l'Aquila dovrà affrontare in futuro sarà che cosa fare dell'immenso patrimonio immobiliare provvisorio realizzato dopo il terremoto. 19 Newtown più i cosiddetti villaggi MAP. Dopo dieci anni dal sisma, chi troviamo dentro queste loggie? Qual è la situazione dell'assistenza alla popolazione? Beh, innanzitutto c'è una popolazione molto eterogenea all'interno del progetto case perché c'è una convivenza ancora dei nuclei sfollati dal sisma del 2009, l'aggiunta di nuclei sfollati dal sisma 16-17 che accogliamo tramite delle convenzioni con la regione Abruzza e la regione Lazio, quindi da matrice sostanzialmente dei comuni Campodosto, Montreale e Capitignano e inoltre abbiamo le nuclei che mano a mano sono entrati tramite i bandi fatti dall'ufficio casa, quindi dal settore poi delle politiche sociali. Sostanzialmente per quanto riguarda il sisma abbiamo circa 2.900 nuclei di famiglie aquilane che sono in gran parte le famiglie residenti all'interno dei centri storici delle frazioni o del comune dell'Aquila, capoluogo quindi, che ancora si stanno risistemando le abitazioni. Poi abbiamo 19 nuclei provenienti dal Lazio, come dicevo, sisma 16-17 e circa 120-130 nuclei provenienti invece dal cratere, sempre 16-17, però dell'Abruzzo. Questo sin dall'inizio, insomma, il comune dell'Aquila si è reso disponibile anche in quelle città e territorio ad aiutare queste altre popolazioni. Ma il ragionamento su cui bisognerà concentrarsi in futuro è il destino da riservare a un immenso patrimonio immobiliare nato come provvisorio e molto costoso dal punto di vista della manutenzione e della gestione per le esigue casse del comune dell'Aquila. Verrà smantellato con ingenti costi oppure al contrario dovrà essere valorizzato con altrettanti investimenti. È chiaro che la sfida per il futuro, che è contingente, si apre perché questo è un patrimonio immenso, parliamo di circa 6.000 alloggi, sono alloggiabili circa 18.000 persone e quindi bisogna capire effettivamente come non rovinare il mercato immobiliare cittadino, come di fatto poi rispondere alle esigenze di economicità di questi alloggi e quindi la sfida che con questa nuova giunta ci apprestiamo ad affrontare è proprio questa.